Di saggi sulla strada Salinelle, la provincia BAT chiede un finanziamento alla Regione Puglia per interventi urgenti sulla strada provinciale 21. Di collaborazione tra i due enti, Regione e Provincia, parla in una nota il consigliere regionale presidente della Quinta Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Puglia, Filippo Caracciolo, in merito ai lavori per la riapertura della strada provinciale 21. Ripristinare, rendere possibile quanto prima la riapertura della strada Salinelle, temporaneamente chiusa al traffico per impraticabilità dal chilometro 10 al chilometro 13 più 200, a causa del riversamento di fango e detriti eseguito di un'ordinanza provinciale. A tal fine, scrive Filippo Caracciolo, interessato i competenti uffici regionali che hanno ricevuto dalla provincia BAT la richiesta dell'erogazione di un finanziamento con cui utilizzare economie, rivenienti da progetti finanziati con fondi regionali per interventi urgenti, di messa in sicurezza e pulizia della strada interessata dalle notevoli criticità derivanti da lagamenti, esondazioni e riversamenti lungo l'intero tronco viario dovuti alle avverse condizioni meteorologiche del 9 giugno. Regione Puglia, provincia BAT si stanno adoperando per riattivare la normale circolazione stradale a beneficio di tutti coloro che anche per ragioni di lavoro percorrono quotidianamente la strada provinciale 21 Salinelle. Nell'Emore si cercherà di superare la fase di disagio, garantire la sicurezza della circolazione stradale e ripristinare la viabilità, conclude il Presidente della Quinta Commissione regionale.